amiche e amici appassionati di grande ciclismo buongiorno buongiorno e benvenuti diciamo sia pure virtualmente sulle strade del giro d'italia ieri abbiamo goduto veramente uno spettacolo incredibile intorno a uno dei golfi più belli del mondo intorno alla città di napoli grande degente vincitore a 10 anni di distanza di una tappa del giro d'italia ma grande anche van der pol che non si è mai risparmiato dal primo all'ultimo chilometro però il giro d'italia non è certo finita napoli oggi attesa da una frazione veramente molto importante che speriamo vorremmo ci sia in grado di regalare spettacolo e perché no vedo anche big della classifica generale a scontrarsi tra di loro su una frazione che mi sembra sia annunciata da cinque gran previ della montagna ma come nostro solito ne parleremo con figure autorevoli figure che hanno di un palmarès prestigioso nel loro trascorsi che possono dunque ben entrare ad entrarsi nelle pieghe di un giro d'italia che insomma si sta annunciando davvero interessante noi lo ringraziamo per essere con noi buongiorno a mauricio fondi mauricio buongiorno buongiorno a tutti voi allora mauricio come al solito impegnato ovviamente di testimonial al giro d'italia con un marchio finanziario importante medio lanum però sei una figura che è rimasta non certo avulsa in questi anni dal mondo del ciclismo abbiamo tanti argomenti da affrontare con te cercheremo di farlo in breve tempo perché incombie un pochino anche la partenza da esempio allora credo di aver illustrato bene sono state due tappe quella di potenza e quella di napoli che non hanno certamente tradito le attese ma è stato un giro molto bello fino adesso non c'è detto tantissimo per quanto riguarda la classifica generale però le tappe in ungheria sono state spettacolari con van der pool che ha dimostrato di essere il corridore un po' di diverso da tutti gli altri campioni no perché basta vedere anche la tappa di ieri il primo che scatta e van der pool per portare via per portare via la fuga dopo logicamente quando sei il più forte no anche se abbiamo visto di ermai che sta veramente sto ragazzino andando andando veramente bene si butta nelle volate va forte anche sulle salite brevi quando sei il più forte così cercano di metterti in difficoltà l'hanno fatto aspettato forse un po troppo a cercare di rientrare sui 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 cinque davanti però dai un colpo nei dai due e anche le tue forze alla fine calano abbiamo visto nella volata finale che è partito si è anche rialzato no anche se ormai era per era per il piazzamento non era per per la vittoria no però direi direi un bel giro fino adesso perché non è stato così scontato e monotono però per la classifica generale dovremo attendere oggi per vedere qualcosa qualcosa in più allora maurizio io vorrei tornare sulla tappa di ieri affrontare un pochino il dibattito tu hai detto che forse aspettato troppo a cercare il ricongioggimento però bisogna altresì dire che forse ha esitato troppo poco a cercare la soluzione già nelle prime battute poi a 46 km dal traguardo forse era meglio un colpo 20 km più tardi lui ha provato no ha provato tirato via quei tre quattro però dopo alla fine indietro sono rientrati no il problema è che quando sei così forte anche i due della lotto se ne avesse avuto uno davanti della lotto assieme a lui magari gli avrebbero detto dalla macchina non tirare cerchiamo di 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 farlo fuori in un'altra maniera come come hanno fatto no e la tattica della 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 lotta è andata è andata buon fine non è sempre così perché quando decidi di fare qualcosa praticamente non è sempre e fai e succede quello che vuoi fare no eh però le le corse le corse sono le scorse sono così no non sempre non sempre fai eh decidi di fare una cosa e poi poi ti riesce eh abbiamo visto che però ha attaccato ancora nel finale è arrivato a otto secondi da dai dai fuggitivi eh purtroppo lui essendo da solo se avesse avuto un altro compagno sarebbe stato magari diverso però abbiamo avuto uno uno spettacolo molto bello perché anche della fuga davanti non è stata così monotona la corsa come eh io direi che negli ultimi due anni è cambiata ma soprattutto quest'anno direi che è un bel giro da vedere perché ci sono queste due corse no quella per la la classifica e e quella per la tappa perché anche la tappa eh dell'altro ieri eh contondo Mulen che ha fatto veramente un un grandissimo lavoro per per Bowman eh è stata bella da vedere quindi eh la gente che guarda in televisione ha la possibilità di 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 godersi due corse in una vediamo al dunque ovviamente non la voglio rapportare sotto il profilo della cronaca ma se qualcuno ti dicesse che come impeto come emotività come voglia di fare in Vanderpool ieri avevi visto un pochino il Fondriest della Sanremo 1987 cosa risponde? Guarda io sono sincero quando quando parlo ti dico che Vanderpool io cose come ha fatto Vanderpool non le ho mai fatte ho fatto ho vinto 69 corse ho vinto un mondiale però Vanderpool ha eh un'esplosività eh e ha fatto delle cose come quando ha vinto la la prima eh Amsterdam go race ha veramente impressionato no è lì eh sono delle cose che non sono eh cioè per uno che è ehm ha corso in bicicletta eh ti rendi conto che questo ha dei numeri che hanno veramente pochi poi a volte corre 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 male perché spende troppo la rouvée dell'anno dell'anno scorso l'ha buttata al vento perché quando quando tu consumi di più sei molto più forte però consumi molto più degli altri ti ritrovi magari che nel finale sei come gli altri o leggermente inferiore perché hai speso tutto no? però a livello a livello di prestazione direi che ce ne sono pochi come come lui. Cosa ricordi del padre di Vanderpool? Tu ci hai passato qualche anno insieme? Sì era più vecchio di me di 4-5 anni però abbiamo corso insieme e mi ricordo un aneddoto l'anno scorso ero alla presentazione della 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 Alpecin e eravamo sul tavolo con io con sua papà che stavamo parlando e di fianco c'era Matthew e sua papà gli ha detto ma sai chi è lui? e lui eh no allora gli ha spiegato gli ha detto guarda che lui ha vinto il mondiale allora è andato subito a vedere i risultati e gli fa eh ma lui è stato più forte di te no? sei il figlio il figlio che che dà contro al padre. Di Adri il ricordo che mi viene in mente è quello fine stagione dell'87 era mio primo anno da da professionista ultima grande classe che che era la parigi tour e feci il gran premio d'autunno gran prix d'autunno che era cretei chaville che era la praticamente la parigi tour che per un po' di anni avevano cambiato percorso era un percorso attorno a parigi molto più impegnativo della parigi tour con molti strappi nel finale andammo via in in sei nel nel finale e sull'arrivo eh io arrivai terzo persi la volata proprio da Adri Van Der Poel e ehm un corridore della Panasonic la persi per per pochissimo però da una parte ero deluso della eh della sconfitta però molto contento perché il corridore del primo anno e arrivare subito sul podio di una di una grande classica eh è stato un risultato sicuramente bello e poi ecco per questo l'aneddoto con con Adri Van Der Poel TG di Genco Leonardo ogni soluzione a portata di mano costruzioni ristrutturazioni demolizioni richiedi un preventivo con possibilità di accesso a bonus fiscali TG di Genco Leonardo e a Cascina Pisa chiama subito 349 4107 598 Fattoria Pieve Assalti il benessere a portata di mano vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi gastronomia fitness maneggio e tanta bici tra le crete e la via francigena www.pieveassalti.it Atacama il gusto dell'avventura Atacama è bici e accessori in carbonio strada mountain bike gravel e e-bike Atacama è la soluzione che cerchi atacamabike.com Atacama always one step forward Vangie Inerti S.A.S. La tutela dell'ambiente è la nostra priorità Recupero, riciclaggio e vendita inerti Raccolte e recupero materiali edili Vangie Inerti S.A.S. Al tuo fianco 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno Trasporti contoterzi, noleggio mezzi operativi con addetto specializzato www.vangieinerti.it Maurizio, tornando invece agli uomini di classifica Tu giustamente hai anticipato dicendo Stiamo godendo di due corsi e stiamo assistendo a due corsi in una Mi sembrano al momento piuttosto abbottonati Ovviamente secondo me il blockhouse rappresenterà un appuntamento spartiacque Però i favoriti, cito tre nomi Carapaz, Yates, Landa per fare dei nomi Fino ad ora sono stati molto abbottonati e molto prudenti Potrebbero restarlo anche oggi? Guarda, io metterei anche Bardet, no? Ci sono dei corridori come Landa e Bardet Che alla fine nella carriera non è che hanno... Guardiamo Landa, il Palmanes di Landa Probabilmente avrebbe vinto la Welta quando la vinse Aro, no? Perché era lui il più forte però per ordini di squadra Ha dovuto lavorare per Aro E nella carriera non ha fatto grandi risultati A parte delle tappe però Un po' per sfortuna Però è un corridore che in salita va molto forte Sono curioso di vedere, capire se quest'anno sarà l'anno buono Come la stessa cosa vale per Bardet Yates dà l'impressione di avere una grande tranquillità Carapaz è una grande squadra E oggi sicuramente farà un po' più danni rispetto all'Etna Perché l'Etna negli anni non ha mai fatto delle grandi differenze A parte quando vinse Contador Negli arrivi in salita all'Etna Forse perché nella parte in cima all'Etna c'è sempre molto vento Quindi quando hai il rettilineo col vento contrario A Ruota si sta bene Quindi per gli attaccanti questo è difficile Oggi invece al Blockhouse Non arriveranno sicuramente 18-20 corridori insieme Ma il gruppetto dei migliori sarà molto più ristretto Quindi potremo già capire Chi è proprio fuori dai giochi E chi si giocherà il giro Però dopo della tappa di oggi Bisogna aspettare un bel po' Perché ci sono delle tappe insidiose Come magari quella di Iesi Però dove faranno magari poche differenze Quella di Torino che è impegnativa col Superga Però non lo so fino a che punto attaccheranno lì Perché il giorno dopo ci sarà Coin E da lì in avanti C'è una settimana che a parte la tappa di Treviso Tutti i giorni sono buoni per attaccare Quindi secondo me il giro si diceva proprio nell'ultima settimana Una piccola riserva Io però ieri consultando l'altimetria della tappa odierna Ho visto che non arriveranno in cima al Blockhouse Mi sembra non ci arriverà a 1700 metri Speriamo siano sufficienti per creare bagarre Ma è una salita che è stata fatta diverse volte La percorreremo anche noi oggi nella pedalata con Mediolano Sono circa 1300 metri di dislivello Però prima c'è il passo Lanciano Con salita unica questa non sarebbe una salita di quelle da fare chissà che danni Però quando fai prima il passo Lanciano Scendi e risali subito Insomma nel finale di corsa hai 2500 metri di dislivello Tutti assieme e questi si fanno sentire nelle gambe Quindi secondo me qualcosa succede Maurizio ovviamente quando si va a consultare un grande campione come tu sei stato È chiaro che si vanno a analizzare un pochino le tue competenze anche per i tuoi trascorsi e la tua esperienza Però non ci nascondiamo, non ti nascondi Tu ricopri anche il ruolo di procuratore per certi corridori E quindi cerchi di analizzare e di valutare ciò che offre un pochino il mercato Il mercato tra virgolette Purtroppo tu puoi guardare il mercato Il mercato è fatto anche di ordini d'arrivo E allora mi viene da dire Le bandierine italiane sono un pochino latitanti negli ordini d'arrivo nelle classifiche Non è più il ciclismo di Fondi, Estebunio, Chiappuccia, Argentinza, Ronni L'analisi ci vorrebbe magari anche un po' più di tempo per cercare di analizzarla Però ci sono vari fattori Uno, il ciclismo è cambiato Io sono passato da un ciclismo direi nazionale Perché tutte le nazioni come l'Italia, la Francia, la Spagna e il Belgio Avevano un calendario nazionale dove ti scontravi nelle corse più importanti Dalla Sanremo in avanti, la Tirano Adriatico Queste erano le corse o i mondiali Però altrimenti facevi un'attività quasi esclusivamente nel tuo paese C'erano squadre in Italia che correvano solamente in Italia Non andavano neanche a fare le classiche Poi piano piano si è aperto, è diventato più europeo Con la caduta del muro, anche i paesi dell'est E piano piano gli australiani sono cresciuti Perché anche alla mia epoca c'erano degli australiani Però erano veramente pochi Adesso c'è un'apertura a livello mondiale di corridori Basta vedere Ghirmai Adesso arrivano anche dall'Africa, dall'Asia magari un po' meno Però il ciclismo è più mondiale Quindi logicamente con una base più ampia di corridori È una piramide e logicamente emergere diventa più difficile Perché emergono i più forti di tutto il mondo Non solo quelli dell'Europa Quindi i posti disponibili magari sono meno Poi questo è il primo aspetto Il secondo aspetto è quello che se guardi analizziamo certi paesi che hanno molti campioni Lì non lo sai mai quando un talento nasce Perché prendi la Slovenia Che è un paese che è grande come la Lombardia E ne ha due che sono i primi due del mondo Più ai Moritz, più gli altri Dici cosa hanno fatto Solamente uno stato male che lavora bene alla base a livello sportivo in generale Però poi sapere se ti nasce il campione di quel genere lì Questo non è che perché lavori bene e trovi il super campione Non lo sappiamo Ti faccio l'esempio del Trentino C'è stato Francesco Moser Poi ci sono stato io C'è stato Gilberto Simoni Poi abbiamo avuto altri corridori forti come Os Come Trentin Però mai magari a livello nostro Ma questo non lo sappiamo perché E quindi è una ruota che gira Quindi bisogna sicuramente aspettare che esca il campione Però d'altra parte bisogna anche lavorare alla base Dalle categorie giovanili Per attirare più ragazzini a fare dello sport Logicamente con una base ampia C'è più possibilità di trovare il talento Per fare questo però non si può più andare avanti Con i sistemi che avevamo una volta Di reclutamento con i giovanissimi Perché c'è più traffico Le famiglie hanno paura a mandare i ragazzini su strada Quindi bisogna strutturare nelle varie regioni Dei posti dove i ragazzini possano andare ad allenarsi Facendo anche dell'altro Tipo con la bici da BMX Vi ho visto in Toscana al centro di Alfredo Martini Dove c'è il ciclodromo Molto bello Molto bello A Ludi a Ponte Borgianese Esatto Io sono andato a girare con mia figlia Ho girato sulla PAMTRAC Allora se attiri i ragazzini in un posto Quindi le famiglie possono mettere i ragazzini A girare in un centro chiuso Logicamente ci saranno più ragazzi Magari che in futuro Inizieranno poi a correre in bici Perché a quell'età lì Non serve a fare allenare i ragazzini In giro Per farli allenare Devi fare abilità Che si divertano Poi piano piano Se prendono la passione Inizieranno a correre in bici Questo secondo me È il primo stadio Il secondo stadio Bisogna che nelle categorie Molto delicate dagli allievi juniores Che però i ragazzi Facciano un tipo di lavoro Che sia coerente Con la loro età C'è la tendenza a spingere troppo Su queste categorie E farle diventare troppo professionistiche Al fine del risultato Il fine invece dell'allenamento Al fine della crescita Non del risultato fine a se stesso Perché hai il corridore Quello forte forte Che magari riesce a resistere A certi tipi di carichi di lavoro E gli altri Magari che avrebbero la possibilità Più avanti di crescere Che smettono Quindi Però su questo argomento Ci vorrebbe un po' più di tempo Per spiegare Però Il discorso praticamente è questo Io faccio il lavoro Di procuratore con Paolo Alberati Che il nostro È un po' di più Va un po' più in là Perché il procuratore trova i contratti Noi non andiamo a cercare i corridori Che magari vincono Tutti quelli che vincono E poi Andiamo a cercare anche i ragazzini Un po' più giovani Testarli Logicamente Perché vedi subito Chi ha il motore E poi cercare di accompagnarli Adesso In Trentino Ne ho tre Che due sono i fratelli Andre House Uno è Under 23 Che è con Tim Friuli L'altro è il secondo anno Allievo che ha anche lui va forte E poi c'è Thomas Capra Che è il primo anno Di Juniors Che ha vinto la Gangwebhagen Però con loro Stiamo facendo un lavoro Di crescita Non del risultato Fine a se stesso Con questo non voglio dire Che non bisogna andare Alle corse per vincere Perché io Ho sempre vinto tanto Però Con i carichi giusti Di lavoro Lasciando anche Lo spazio Giusto Perché a quell'età lì Hai bisogno Di non stancare I ragazzi solamente Facendo un lavoro Professionistico Perché non hai La maturazione E l'età Per farlo Maurizio Credo che In quanto toscano Anche Vorrei fare Aggiungere qualcosa Poi ho tirato in ballo Paolo Alberati Ma mi risulta Che nella zona di Arezzo Invece ci sia Un grosso centro Outdoor Che è un centro Molto ispirativo Per fare anche La multidisciplina Sì ma Con questo Guarda Io sono convinto Che la federazione Che abbiamo adesso Stia Iniziando a lavorare bene Perché Con tutte Persone Che hanno Delle competenze Persone che sono state Tutte nel mondo Del ciclismo Professionistico E quindi Sicuramente Per fare un cambiamento Così ci vuole tempo Non lo vedi Da un anno Da un anno A un altro Bisogna lasciare il tempo Perché Quindi sono Sono fiducioso Io mi sento spesso Con Dagnoni Che correva Con me E quindi Penso che facciano Un buon lavoro Di altri corridori Noi abbiamo Ne abbiamo Abbiamo degli altri Perché In Toscana In Toscana Abbiamo altri corridori Abbiamo Nencini Ad esempio Perché Che veramente È stato sfortunato Perché prima Prima il covid Poi la caduta Di due settimane fa Che Che l'ha costretto L'ha costretto A fermarsi Tommaso Nencini Nelle corridine Scorre un po' Delle dita anche Lui ha un grande potenziale È il quarto anno Ma sono convinto Che adesso Si riprenderà E ha dimostrato Di essere maturato E quindi Di fare Sicuramente Un grande salto In questo finale Di stagione Fossetti costruzioni Sinonimo di qualità Ed efficienza Al tuo fianco Dalla progettazione Alla messa in opera Ristrutturazioni E nuove costruzioni Tempi rapidi Di realizzazione E consegna Chiedi un preventivo O la disponibilità Di nuove costruzioni In vendita www.fossetticostruzioni SRL.com Due ruote Che vi faranno Perdere la testa Taddei Store A Santa Croce Sull'Arno Rivenditore ufficiale Specialized Offre spettacolari avventure Sia su strada Che fuori strada Gira il mondo Sulle due ruote Con Taddei www.taddeistore.com Fai pit stop Nei B-Point B-Car Competenza Efficienza E cortesia Siamo a Cascina Pisa Santa Maria Monte Empoli E Ponsacco La qualità Si crea ogni giorno Con un buon gioco di squadra B-Car Qualità Passione Innovazione Le nostre carrozzerie Multiservice Ti aspettano a Cascina Pisa Santa Maria Monte Empoli E Ponsacco Bene Maurizio Allora Inutile chiederti Un favorito del giro Perché Ripeto Siamo alla vigilia A poche ore Dalla partenza Di una tappa Che segnerà Sicuramente Questa prima parte Del giro Però Se tu volessi Aggiungere qualcosa Qualche nome Perché Magari abbiamo visto I vari Tiberi Battistella Baroncini Quando potranno arrivare Questi ragazzi Vengono fuori Con risultati Eclatanti Dal mondo Underbendere Guarda Volevo Visto che siamo In Toscana C'è Raffaele Mosca Che corre Alla Cubeca Che è un altro Corridore Di quelli Che noi Puntiamo Perché È un Corridore Che al primo anno In salita Va molto forte Abbiamo Questi corridori Come le Andreaux Che sono più E Capra Che sono più Da classiche Mentre Mosca È un corridore Che va forte Anche in salita E quindi Ci puntiamo Ci puntiamo Molto Perché Perché anche Arrivano Da squadre Che nelle categorie Inferiori Hanno fatto Un'attività Giusta Quindi Che hanno I margini Di miglioramento Questo L'obiettivo Per arrivare Al Giro d'Italia Bisognerà vedere Negli italiani Abbiamo Diversi Corridori Nominato Baroncini Ma Ce ne sono Ce ne sono Altri Che stanno Andando Forte Però Bisognerà Capire Quanto Forte Potranno Andare Perché Il livello È alto È inutile Negarlo Quindi Lo capiremo Nei prossimi Due o tre anni Allora Maurizio Un'impressione Ci hai accompagnato In questa chiacchierata Con un filo Di sorriso Da cui potrebbe Trasparire L'ottimismo L'ottimismo Di una persona Ma no Certo Bisogna Bisogna Essere Insomma Anche Fiduciosi Poi Si guarda Sempre Il bicchiere Mezzo vuoto Però Se guardiamo I risultati Dell'anno scorso Abbiamo fatto Di grandi risultati Purtroppo Colbrelli Ha avuto Il problema Che ha avuto Io li auguro Di ritornare Non sarà facile Trentin Si è fatto male Ganna Ganna Chi ha Un Ganna Nel mondo Quanti Ganna Ci sono Nel mondo E quindi Dobbiamo guardare Anche I ragazzi I ragazzi Forti Che abbiamo Non è che Dobbiamo buttare Sempre Fango Sul Sul nostro Ciclismo Perché Sicuramente Guardiamo Il Giro d'Italia Quest'anno Viene Ci viene Fa Pensare Però Io sono Io sono Fiducioso Come sempre Si però Vedi Maurizio Ormai La partenza In calza E non è il caso Di disturbati O di trattenetti Oltre Tu hai toccato L'argomento Colbrelli Poi Praticamente La situazione Di Colbrelli Andrà a scontrarsi Anche nelle migliori Ipotesi Con un regolamento Che in Italia Non è accettato No ma certo Vogliamo parlare Delle camere speciali Anche quello È un altro argomento Poi non finiamo più Si beh Dovremmo Ci sono altri argomenti Molto interessanti Da sviluppare Però ci vorrebbe Ci vorrebbe tempo Adesso devo Devo prepararmi No assolutamente Facevo Per non Far avvoltire Qui il commento E giuntamente Il cronista L'interlocutore Deve dire Auguriamo tutto il bene Che vogliamo A Sonny Colbrelli No ma certo Però una volta Avvolato il bene C'è un problema Amministrativo Legale Da risolvere Ma l'ho detto Anche a lui Ma la prima cosa A parte quello Il primo è Della Della sua salute Certo E quindi Gli ho detto Di fare Tutti i controlli Poi dopo Ci sono La parte regolamentare Che è un'altra Che direi Che è secondaria Per quanto riguarda Colbrelli Sì Per quanto riguarda Il pragmatismo Nel nostro movimento È un qualcosa Che devo Di formarsi Sicuramente Grazie Maurizio Grazie a voi Grazie a voi C'è stato gentilissimo Grazie Buona giornata E buon lavoro Ciao